ciao a tutti oggi è sabato 9 settembre 2023 allora oggi devo sciogliere la cera dei telaini dei telaini da nido vecchi che ho delle famiglie che mi sono mi sono si sono spopolati con la varo e poi sono morte praticamente erano vuote e poi devo sciogliere la cera d'opercolo che ho finito di smelare ho già invasettato e tutto ho svuotato la vasca e adesso oggi mi metto qui anche se non è proprio il periodo perfetto perché è un po' presto è un lavoro che andrebbe fatto d'inverno magari a ottobre novembre quando le api volano meno ma farò attenzione infatti utilizzerò una zanzariera per proteggere la cera quando scende comunque lo devo fare perché se no i telaini di mi fanno tutte le camoli quindi lavoro da fare tanto che sono qua volevo farvi vedere un po come funziona la scieratrice a vapore io la uso con alimentazione a legna quello che trovo in giro che non brucio nella stufa tipo abette assi vecchie cassette io le uso per quei lavori qua quando faccio la salsa o quando devo accendere accendere quel bruciatore qua che utilizzo per sciogliere la cera allora questo nasce per essere utilizzato col gas quindi ai piedi a un'altezza sarà 20 cm da terra uno mette il fornellone sotto con la bombola e lo uso io primo anno due l'ho usato col gas dopo ma via un sacco di gas e viene a costare più il gas che che la cera quindi l'ho convertito a legna ho visto un video su youtube di un signore che lo faceva molto semplice si mette nella lamiera sotto in modo che ci sono dei chiodi eccetera vengono recuperati poi io carico lateralmente da quella legna adesso non l'ho acceso perché sennò dopo fa un fumo e non si riesce a vedere niente nel video qua metto la legna ci metto l'acqua fino al livello per come funziona sotto a questo livello d'acqua poi sopra ci va questa e adesso ve la metto ma montata così quindi avete visto sotto l'acqua questo tubo qua si imbocca in quel tubo lì sotto così e poi sopra c'è questo cestello questo cestellone qua solo posizioniamo così vedete un po come funziona qui andiamo a mettere i telaini da nido in piedi tutti in piedi così poi mettiamo il suo coperchio che questo l'acqua chiaramente ci mette l'acqua l'acqua dopo dovete continuare aggiungerla perché cal poi mettete questo quadro quindi mettiamo l'acqua poi mettiamo i telaini in piedi o mettiamo la cera direttamente coi secchi dentro la cera d'operco le potete mettere anche perché non è sporca il problema con i telaini i telaini da nido cosa hanno hanno tutta la covata cioè gli scatti della covata che sono questi qua neri adesso vi faccio vedere che ho tolti prima questi scatti qua cosa succede succede che una volta fatti fatti sette otto quelli che ci stanno dobbiamo prendere la griglia tirarla fuori buttare nella caretta con la cazzuola puliamo e poi la rimettiamo perché cosa succede se noi non facciamo questo lavoro si accumula tutto sul fondo questo sporco diciamo e la cera non finisce più dopo viene uno stato di cera misto a quelle sporcizia lì non va mica bene quindi io faccio così prima faccio o quella da 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 opercolo così va via subito la metto dentro lei praticamente una volta che comincia a andare l'acqua in ebollizione il vapore scioglie la cera la cera esce da questo rubinetto e va dentro la pentola questo qua è protetto perché non vengano le api e poi dopo lo butto qua dentro poi lo sposto in modo che non ci vanno le apre lo metto in cantina chiuso ci metto su una zanzariera e poi quando si solidifica rimane la parte sotto che magari è miele acqua sporca di miele eccetera e la buttiamo negli scarichi e mentre la cera dopo va a far sterilizzata e se avete attrezzatura da fare c'era i faticiare se no la portate a cerrificio che vi riconverte la cera in poi di cerri sia da nido sia da melare quello che vi serve il funzionamento è molto semplice allora si accende sotto ci mette il coperchio dentro i telaini quando va in ebollizione dopo l'acqua all'acqua fa invece tutto il vapore e la cera si scioglie la cera scende e va in quella pentola lì quando è quasi piena la butto qui dentro e le porto via in modo che non ci vanno le api teniamo sempre questa zanzariera qua di protezione e poi finiti otto telaini si prendono ottono a quelli che sono sicuri si butta nella caretta e via poi questo sporco qua si fa un buco e si intera non si lascia fuori perché non va mica bene perché dopo magari se c'è una delle famiglie ammalate non va bene ma sempre interato perché dopo sennò le api ci vanno e non è un bel lavoro e funzionamento è molto semplice mi raccomando tenete pulito sempre questa questa griglia e se invece volete allora se dovete riutilizzare i li volete riutilizzare ancora anche se ci sono se c'è da rimetterci filo perché quando dopo vengono sciolti spesso il filo si rompe o ha dei problemi l'importante dovete pulire appena tirate fuori cioè tirate fuori tirate fuori i telaini li pulite subito li mettete dentro delle cassette poi li portate via perché se no dopo la cera si solidifica ed è un problema ed è un problema pulirli sta passando uno sciame in diretta da dove viene non viene dalle mie perché va in giù io le api ce l'ho la avete visto non era previsto questo sta andando e si vede che c'è un e poi a parte che non lo prenderà in mano uno sciame del genere che sarà impestato di varò però l'avete visto anche voi sta andando sta andando là in fondo verso il bosco è andato veniva da dalla in alto non so che sarà stato dentro una casa o ma strano perché veniva proprio dal nulla la ora in un bosco perché io le api ce l'ho di là poi poi c'è tutte le raggine clippate non può succedere una cosa del genere e adesso vi faccio vedere tra vi faccio vedere la parte quando accesa e quando scioglie la cera con dove così vedete la cera che va giù eccetera allora ho sciolto i italiani da nido adesso sto sciogliendo l'opercoli vedete quanta c'era che viene che sta uscendo adesso vi faccio vedere dentro allontano un po perché vedete si sta sciogliendo adesso non riesco a avvicinarmi perché c'è il vapore si sta sciogliendo e sta venendo fuori un sacco adesso la mettiamo qua dentro se riusciamo con una mano allora facciamo così chiudiamo un secondo rubinetto se non scotta così proprio un attimo poi adesso vediamo se riusciamo con una mano a togliere questo così poi mettiamo sotto un attimo questo questa è la cera e la buttiamo qua dentro con calma perché scotta dopo si solidifica adesso facciamo il cambio torniamo indietro rimettiamo questo qua così questo lo usiamo e riapriamo la valvola e scotterà e adesso riprende a scendere la cera questo per sicurezza vedete che c'è già un'ape mettiamo questo shop così non entrano più questo la cera che scende qui abbiamo già visto questi sono le braccia che alimentano il tutto e queste qua sono gli scatti dei telaini da nido lo faccio un buco faccio fare un buco da mio fratello con lo scavatore e seppelliamo così siamo sicuri che non ci vadano api eccetera c'erano anche delle larve vedete perché erano lasciati di magari una settimana ho fatto subito ho cominciato subito a fare le larve infatti ho dovuto farlo oggi come dicevo quel lavoro qua prima che la situazione degenerasse del tutto poi avevo anche quella dopo è di opercolo quindi ne ho approfittato che facciamo tutto diamo un'altra occhiata come siamo messi si sta sciogliendo adesso dieci minuti dovrebbero essere finita vedete come scende come bella gialla si vede proprio bene è uscito appena qui proprio una bella cera e dopo c'è da sterilizzare a 120 gradi per circa un'ora e dopo riproveremo a fare i fogli cerri con i miei amici dario stefano cerreria condivisa che abbiamo provato già l'anno scorso a farli ma non ci siamo riusciti perché ho i rulli ho i rulli quelli per fare i fogli cerri a freddo quelli d'alluminio con le celle ho due tipologie di rulli quello liscio che porta la cera a livello e quell'altro che fa la sagoma del degli esagoni e adesso proveremo a farli se poi ci riusciamo farò un video adesso magari a ottobre quando siamo abbiamo un po più tempo ci proviamo gli facciamo vedere e questo è quanto oggi al pomeriggio ho passato 50 telaini da nido li ho puliti li ho già portati via e poi ho passato adesso sto sciogliendo questa cera qui che è la cera di della smiratura di quest'anno che hanno circa più di 4 quintali di miele un 38 quarantina di melare da da 9 telaini va bene io vi saluto se avete qualche domanda scrivete pure nei commenti o iscrivetevi al gruppo di telegram o se passate da palma passatemi a trovare che facciamo qualche lavoretto insieme va bene vi saluto grazie ciao ciao ciao